Ciao a tutti e oggi parleremo di un nuovo sito dove poter affittare delle ragazze per poter giocare insieme qualche partita in diversi tipi di giochi. Vediamo come fare. Dunque ragazzi per poter giocare con una ragazza ma anche con un ragazzo perché ci sono anche dei maschi come potete vedere qua il sito è questo qua. Si chiama ipal quindi www.ipal.gg andate sul sito e qua trovate in prima pagina diverse persone ma se volete sapere quali sono i giochi per cui potete affittare una giocatrice o un giocatore sono questo qui l'elenco. Sono LOL, Minecraft, Overwatch, Fortnite, Valorant, Up against Legend, Rainbow Six, Animal Crossing, VRChat e vedete che ce ne sono parecchi anche Destiny 2, Monster Hunter World. Una volta che avete trovato il gioco che vi interessa facciamo un esempio per esempio andiamo su Animal Crossing e vedete che queste sono le candidate. Come potete vedere sono qui segnate con il segno rosa diciamo fucsia le ragazze e il segno blu i maschi. Quando avete scelto poi la ragazza che vi piace dovete controllare poi ovviamente che sia anche online ma da quello che ho capito sono tutte ragazze straniere. Non c'è nessuno che parla in lingua italiana almeno credo almeno al momento e qui avete poi il prezzo. Questa richiede 2 dollari e 25. Per partita credo non ho capito bene i prezzi, non leggo per quanto riguarda che cosa. Poi se volete potete anche ascoltare la sua voce in questa maniera. Dunque questa è online, la dovete contattare e mettervi d'accordo e dovrebbe giocare sui server europei. Cambiamo gioco, andiamo a vedere un attimo World of Warcraft. Come l'ho pronunciato non lo so, vabbè. E le candidate, e i candidati perché qua ci sono anche i maschi, sono questi qua. Per esempio andiamo, ah c'è sempre la stessa di primo perché evidentemente poi una fa anche più giochi, dà più possibilità. E andiamo a sceglierne, vediamo un ragazzo, va vediamo questo qua. Questo dice che gioca soltanto il PvE e viene a costare 2 dollari, è online. E questo qui, questo è il suo audio, e quindi andiamo a leggere, si chiama Suoni. E qua vi dice anche il tempo di connessione, cioè degli orari in cui lui è presente. Questo sta in America, a Los Angeles, e credo che questo sia il suo PG. Ovviamente per poter comunicare o anche pagare, e quindi prendere in affitto una persona per qualche ora di gioco, non so se sono ore o sessioni di gioco, comunque bisogna ovviamente registrarsi a questo sito, e vi chiederanno un po' di cose, il nome, il sesso, la lingua, la vostra mail, e di scegliere una password. Ragazzi, questa era la notizia di oggi, come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a commentare qui sotto. Mi auguro che non avrete bisogno di utilizzare questo sito, perché magari siete molto simpatici, e quindi riuscite tranquillamente a fare amicizie. Ciao e alla prossima! Ciao! 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 Ciao!